Gli dèi e la religione degli antichi egizi. La religione degli antichi egizi era politeista, ovvero prevedeva l'adorazione di numerose divinità. Queste divinità erano spesso associate a forze naturali o aspetti della vita umana, e venivano rappresentate con sembianze umane o animali. Le divinità principali. Le divinità principali della religione egizia erano. R.A. Il dio del sole, era considerato il creatore dell'universo e il sovrano degli dèi. Era spesso rappresentato con la testa di un falco. Amon, il dio creatore, era spesso rappresentato con la testa di un ariete. Osiris, il dio della morte e della rinascita, era considerato il re dell'oltretomba. Era spesso rappresentato con la testa di un uomo e il corpo di un faraone. Iside, la dea della maternità, della magia e della guarigione. Era spesso rappresentata con la testa di una vacca. Seth, il dio del caos e della distruzione. Era spesso rappresentato con la testa di un cane o di un asino. Altri dei e dèe. Oltre a queste divinità principali, la religione egizia includeva un gran numero di altre divinità, alcune delle quali erano più importanti in alcune regioni o epoche che in altre. Tra queste vi erano. Athor, la dea dell'amore, della musica e della danza. Era spesso rappresentata con la testa di una vacca o di una donna con corna di vacca. Thoth, il dio della conoscenza, della scrittura e della magia. Era spesso rappresentato con la testa di un ibis o di un babbuino. Anubi, il dio dell'oltretomba, patrono dei morti e degli imbalsamatori. Era spesso rappresentato con la testa di uno sciacallo. Min, il dio della fertilità e della riproduzione. Era spesso rappresentato con un fallo eretto. Basté, la dea della casa, dei gatti, delle donne, della fertilità e delle nascite. Era spesso rappresentata con la testa di un gatto. Il culto dei morti. La religione egizia era molto focalizzata sul culto dei morti. Gli egizi credevano che la vita continuasse nell'aldilà, e che fosse importante prepararsi adeguatamente per questo viaggio. Per questo motivo, la mummificazione era una pratica molto importante nell'antico Egitto. La mummia era considerata il corpo fisico del defunto, che avrebbe dovuto essere conservato per consentirgli di rinascere nell'aldilà. Insieme alla mummia, venivano sepolti anche numerosi oggetti, che avrebbero dovuto servire al defunto nell'aldilà. Questi oggetti potevano includere cibo, acqua, vestiti, gioielli, utensili e persino animali. I templi egizi erano anche importanti centri del culto dei morti. In questi templi, i sacerdoti celebravano rituali e offerte per onorare gli dèi e per aiutare i defunti a raggiungere l'aldilà. L'importanza della religione. La religione era una parte fondamentale della vita quotidiana degli antichi egizi. Essa permeava tutti gli aspetti della società, dalla politica alla cultura. La religione egizia forniva agli egizi un senso di ordine e di scopo. Essa dava loro una comprensione del mondo che li circondava e del loro posto in esso. La religione egizia ha avuto un'influenza profonda sulla cultura egizia. Essa ha contribuito a formare l'arte, la letteratura e l'architettura dell'antico Egitto. Ancora oggi, la religione egizia è oggetto di studio e di interesse. Essa offre una visione affascinante della cultura e della civiltà di un popolo antico e misterioso.